...numero 12, pronti per partire per Rio Gagego... Ecco come gli immigrati si organizzano... ...per il pranzo, prima di andare a Punta Arenas... Eccoci qua nell'ostello... Permesso? Questa è la nostra stanza... Vediamo... Qua ci sarà Elena... Qua ci sarò io... Ah già ma aveteva piazzato... Ma non lo so, per me è uguale... Eh non lo so, sei su candid camera... Siamo a Huerto Natale... Ok... Questa è il vento monotonico... Torre del Paine... Con questo faremo il transfer... Per andare all'ingresso... ...e una faccia praticamente di appena svegliata... Si... ...siamo qua praticamente... ...ad aspettare l'alba... ...e una faccia praticamente di appena svegliata... Si... ...però come vedete ancora non si vede nulla... Ma non si vede nulla... ...ma 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 non si vede nulla... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate come siamo disperati, perché se dormiremo in treno in una tenda sarà una rovina. Adesso fanno le facce rilassate, ma vedremo fra 9 ore che faccia avranno. Io non sono rilassata già ora. E' un cappuccino. Guarda, ma lo vedi? No, ora lo vedo. Guarda un po', con la schiumetta. Fammi vedere, sembra che hai vomitato. Sembra che hai appena vomitato. Vediamo tu come hai vomitato. Mizi, il tuo vomito è ancora peggiore. Ma mia, se di niente te lo parla qua. Ma ci vorrà lo zucchero. Beh. Buongiorno. 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 Grazie a tutti. 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 Ecco le patagoniche che stanno preparando la loro tenda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tiriamo anche queste, secondo me ci prendo una pietra e gliela metto sopra. Brava, non sulle dita però. Così. Ok? Ok. La tenda perfetta per volare. Adesso andiamo a vedere questo campeggio fronte lago con gli iceberg. Berg. Com'è l'acqua? Aspetta che zummo. Aspetta, aspetta che zummo. Aspetta che zummo. Magnalo. Mangiatelo. Buono, buono. Vita da campeggiatori. Vita da campeggiatori. Ecco, quella si lamenta sempre. Guarda qua, brucia. Che cavolo ci hai fatto? Magari non è neanche il mio. Oh, sveglia. No, ma no. Apri, apri sta godo. Oddio mio, che cosa ho visto. Terribile. Dai. E questo sarà il nostro pranzo di oggi. Per fare tanta cacca. No, pim, pim. Dopo 93 chilometri, le mie scarpe sono tutte come le annunziamo. Sì. 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 Ecco qua la ricerca di 11.000 pesos cileni. Dieci ci sono. Per pagarci questa trasferta. Dnew battencoranza. È bello. È la mocila. È il mocilera. il mochileros il mochileros il mochileros il mochileros